allora si può scrivere un racconto strepitoso su un ricordo infantile assolutamente sì e un racconto bellissimo che molto spesso mi capita di utilizzare in laboratori come questo è un racconto che parla di diciamo l'inizio di un di un'abitudine eh questo racconto è tratto da un libro eccezionale un libro di micro racconti eh scritto da Paul Oster uno scrittore americano del 1947 si intitola questa raccolta esperimento di verità e questo sarebbe il micro racconto numero cinque della sezione che si intitola perché scrivere quindi direi che è perfetto per prendere un'idea avevo otto anni in quella fase della mia vita per me non c'era niente di più importante del baseball i New York Giants erano la mia squadra del cuore e seguivo le imprese di quegli uomini in cappellino nero arancione con tutta la devozione di una fede religiosa quella primavera ehm ha un questo ragazzino da piccolo a otto anni ha un un mito sportivo ancora oggi ricordando quella squadra che non esiste più e giocava su un diamante che non esiste più il diamante sarebbe eh appunto lo stadio il campo del baseball che ha la forma di un diamante posso citare acevolmente i nomi di quasi tutti i giocatori della della rosa e li cita tutti ma nessuno fu più grande nessuno fu più perfetto e meritevole di adorazione di Willy Mace l'incandescente sei i kid quella primavera mi portarono alla mia prima partita di campionato certi amici dei miei genitori avevano dei posti in prima fila a Polo Grounds e una sera di aprile ci regamo in gruppo a vedere i Giants i New York Giants che a quell'epoca erano una squadra di baseball di New York poi si spostarono giocare contro i Milwaukee Braves una squadra i Milwaukee non ricordo che vinse non ricordo nessun particolare della partita ma mi ricordo bene che a termine i miei genitori e i loro amici restarono nei loro posti a parlare finché tutti gli spettatori se ne furono andati si fece così tardi che dovemmo attraversare il diamante per raggiungere l'uscita di centrocampo che era l'unica ancora aperta casualmente quell'uscita si trovava proprio sotto gli spogliatori dei giocatori nel momento in cui ci avvicinavamo alla recensione scorsi Willy Mace cioè mentre arriva alla porta d'uscita in direzione dell'uscita dello stadio vede il suo idolo sportivo non c'era dubbio che fosse lui era Willy Mace si era già tolto la tenuta di gioco e stava lì in borghese a meno di tre metri di distanza da me riuscì a imporre alle gambe di muoversi nella sua direzione e poi raccogliendo ogni stilla di coraggio mi sforzai di spiccicare qualche parola mister Mace gli dissi posso avere il suo autografo per favore doveva avere qualcosa come 24 anni ma non trovai la forza di chiamarlo per nome la sua reazione alla richiesta fu un ruvida ma amabile certo ragazzino certo mi disse ce l'hai una matita che è necessaria per scrivere ovviamente un autografo su un pezzo di carta era così piano di vita ricordo così saturo di energia giovanile che mentre parlava continuava a saltellare su e giù la matita non ce l'avevo quindi chiese a mio padre se poteva prestarmi la sua non l'aveva neanche lui e neppure mia madre nessuno degli adulti aveva una matita il grande Willy Mace rimase a osservarci in silenzio quando fu chiaro che nessuno nel gruppo aveva niente per scrivere si portò verso di me e si strinse nelle spalle il gesto di di fare spallucce no come dire che ci posso fare peccato ragazzino disse se non c'è la matita posso mica farti l'autografo poi uscì dallo stadio svanetto nella notte sembra quasi un'apparizione che è sparita come la nebbia no io non volevo piangere ma le lacrime incominciarono a farmi le guance in fondo c'è otto anni e non potei far niente per fermarle peggio ancora in macchina contenai a piangere per tutta la strada fino a casa sì ero stroncata dalla delusione ma anche disgustato di me stesso per non essere riuscita a trattenere le lacrime non ero mica allattante avevo otto anni i bambini grandi non avrebbero dovuto piangere per cose del genere non solo non avevo l'autografo di Willy Mace non avevo nient'altro la vita mi aveva messo alla prova e avevo scoperto di essere carente sotto ogni punto di vista dopo quella sera ovunque andassi incominciai a portare con me una matita mi abituai a non uscire mai di casa senza essermi accertato di avere una matita in tasca non che avessi progetti definiti a proposito di quella matita ma non volevo più farmi sorprendere ero già stato corto e impreparato una volta e non avrei permesso che succedesse di nuovo se non altro gli anni mi hanno insegnato questo se hai una matita in tasca ci sono buone probabilità che un giorno o l'altro ti venga la tentazione di usarla e poi c'è questo finale strepitoso come mi piace dire ai miei figli fu così che diventai uno scrittore racconto semplicissimo è basato su l'abitudine di portare con sé un tacquino e una matita per prendere appunti perché l'idea buona ti viene sempre quando meno te l'aspetti quindi siccome dovete scrivere un racconto vi consiglio di portarvela dietro e di appuntare l'idea che immagino sarà strepitosa e mi riempirà d'orgoglio di avere studenti così vispi come voi proprio nel momento in cui meno ve lo aspettate potete fare lo stesso giochino anche con qualunque altro oggetto o qualunque altra abitudine costruendoci un racconto sopra questo è ciò che è lo spunto che il nostro grande poloster ha realizzato in questo raccontino grazie a tutti